Padre nostro che sei nei cieli, spero che tu stia bene perché io qui faccio una vita d'inferno dacci oggi il nostro pane quotidiano possibilmente fresco faccio presente che non ho debiti, non ho debitori dove vivo non ci sono tentazioni, così è Così è Che bello questo modo di pensare, è nessun debito mi piaceva come ragionavo una volta, poi il mio stile di vita Un bentornato a tutti su Alcicreto Valute non si poteva se non iniziare con Standard & Poor's che è andato a stampare un ATH e un rally dallo scarico del 6 settembre del al momento, sul momento massimo 5,11% adesso siamo su 4,6% perché abbiamo iniziato da qua? Perché è importante è probabile 1. Questo è un vero bull market quando si dice bull market, questo è un bull market continua a fare ATH su ATH non con la ciofeca che ci siamo ritrovati dall'altra parte vabbè adesso andremo a vederlo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 se oggi chiudesse verde, però qualche dubbio sarebbero 7 giorni verdi va bene che bull market, va bene che bull, va bene tutto quanto però 7 giorni verdi di fila sono parecchi quindi è probabile che ci sia alta volatilità già oggi verso chiusura o metà seduta di Wall Street quindi fra un'oretta o due da quando sto registrando e nella giornata di domani sicuramente perché domani avremo il taglio dei tassi adesso vedremo qual è la cifra che secondo me è ottimale e quella che mi mette un po' più di preoccupazione voi siete ben formati sui tassi? vi ricordo questo video siete ben formati su cosa è successo nel periodo elettorale e taglio dei tassi vi ricordo questo video sapete bene lo stato dell'economia americana al momento quindi che non è messa così male neanche eccezionale ma è un lento rallentamento anche oggi ne abbiamo avuto a conferma con la spesa dei retail sul mese di agosto che è salita dello 0,1 sostanzialmente è stabile si aspettava un meno 0,2 il mercato del lavoro è nella stessa situazione è stabile il leggero peggioramento però non abbiamo segnali particolari di crash imminenti ricordatevi questo quindi domani a mio modestissimo parere e anche di BlackRock sono contento che la pensa come me il taglio corretto è 0,25 scommesse di Wall Street invece per il 61% che taglieranno di 0,5 qual è il problema? tolto il probabile sia il The News ma qualsiasi cosa dicono durante l'uscita domani perché questo rally è andato a apprezzare il taglio dei tassi e fin qua ci siamo il problema cioè la difficoltà nell'uscita tradare successivamente io in questo periodo sto tradando un po' di più del solito nel senso che non mi sento di holdare nel mercato perché so che stiamo camminando su una lama di un rasoio quindi preferisco fare delle entrate, delle uscite poi una parte hold ce l'ho per il momento finché non vedo che si rompe qualcosa di serio nell'economia tipo il mercato del lavoro che collassa quindi licenziamenti di massa però preferisco muovermi un po' seguendo i vari swing del mercato che ci offre con 0,25 lasciate perdere se ci sarà un calo immediato che può essere perché se è il The News la scusa sarebbe ah ma non è 0,5 è il taglio ottimale perché è un taglio che è in linea con i dati quindi è un'economia che rallenta ma non ci sono segnali particolari di allarme e quindi la Fed va a fare un taglio normale probabilmente se c'è un 0,25 primo se l'off iniziale successivamente le settimane dopo si potrà ripetere il 2007 per quello pregate il 2007 adesso andiamo a vederlo ma l'abbiamo già visto se invece sarà 0,5 eh credo se è il The News lo stesso iniziale perché? è perché qua hanno scontato 0,5 quindi ah ok è 0,5 però 0,5 non è giustificato dei dati che abbiamo quindi può venire il dubbio a me verrebbe ve lo dico che la Fed sta agendo correndo ai ripari perché gli sta sfuggendo la situazione recessione dalle mani se questo dubbio entra nel mercato con uno dei mercati più cari di sempre e in ATH sono dolori e tra le altre cose anche sul settimanale guardate sull'RSI abbiamo la divergenza bear che fa paura ogni massimo l'RSI è più basso questo non è per niente bello però sappiamo già che probabilmente il mercato possiamo andare a scaricare a prescindere se non 0,5 o 0,25 solo che 0,5 mette un po' più di preoccupazione il pregate è questo la sorte vuole che domani 18 settembre come nel 18 settembre 2007 ci sarà il taglio dei tassi perché mi riferisco al 2007 è l'unico periodo paragonabile quando vedo le puttanate che paragonano dopo il 2007 mi viene da ridere parlo di Twitter e altre cose che paragonano il taglio dei tassi quelli che abbiamo avuto qua in questi anni e bull poi Bitcoin entra su stampano liquidità e quindi va di solo va sicuramente su se stampano liquidità mentre siamo in recessione con i mercati che calano io vorrei vedere come sale però a parte ciò lo vedete benissimo anche voi graficamente che l'unico taglio paragonabile in tempi recenti è quello del 2007 perché siamo partiti dai tassi da 1% siamo arrivati a 5,24 è rimasto lungo su 5,24 poi hanno tagliato il grigio e la recessione siamo partiti da 0 siamo arrivati a 5,33 e a lungo siamo rimasti sul top non esiste quel mezzo nessun precedente 2019 si sarebbe avvicinato si sarebbe salito ancora ma poi è arrivata il covid e è definita lì quindi non abbiamo altri punti di riferimento se non questo anche quello della dot com stanno un po' perché i tassi comunque erano alti da lungo periodo e siamo partiti dal 3% cosa è successo nel 2007 recap alla puntata sui tassi che avete visto di sicuro vengono tagliati i tassi fa un to the moon e andiamo avanti circa 23 giorni sulla TH poi si rimane sostanzialmente sulla cima fino al 31 di ottobre quindi più o meno 43 giorni poi dopo è iniziato quello che fu un lungo bear market tempi che non va neanche male a noi per le elezioni l'unica differenza attuale è che noi adesso arriviamo già in TH qua prima aveva scaricato quindi ha festeggiato la news noi ora potremmo avere un attimo il contrario cioè arrivare in TH scaricare e dopo però continuare verso nuovi massimi vi ricordate sempre l'area dei 6.000 con 0.25 per quello che vi ho spiegato è più facile perché è più facile dare una narrativa da soft lending molto semplice con 0.5 è un po' più complicata la narrativa del soft lending però magari si inventano qualcosa e lo scopriremo vivendo dopo questo continuo to the moon a Wall Street Bitcoin ora sui 70.000 beh almeno al 60 almeno stamattina ha messo un po' peggio il problema è che siamo sempre qua non siamo neanche alla resistenza del top del canale discendente lo metto su settimanale così si vede vi ricordate non l'abbiamo più presa da parecchio tempo da fine luglio se verremo ulteriormente rigettati da quest'area Wall Street fa uno scarico normale del 5-6% è altamente probabile che Bitcoin rivisiti io ho i 53 ho di nuovo la base di questo canale discendente 51 sarà poi dopo il momento per partire con uptober e un fine ottimo settembre stiamo a vedere direi che vi ho aggiornato ci sentiamo o sabato o domenica voglio lasciare al mercato tempo di sbollire la notizia tempo di sbollire le parole di Powell che saranno la parte direi più importante di tutto o per giustificare in senso bull in senso non oddio stiamo correndo ripari 1,05 oppure per argomentare un 0,25 in senso positivo soft landing non vogliamo esagerare perché l'economia sta bene eccetera 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 direi godiamoci lo spettacolo e ci vediamo a bocce ferme nel weekend un saluto da Alberto un saluto a bocce ferme a bocce ferme di un saluto che in peggio che in un saluto